Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come avete detto dal titolo riordineremo tutta la mia stanza perché voglio assolutamente cambiare la postazione di tutto ciò qua nella stanza poiché raga è molto molto confusionaria e ho anche deciso di cambiare format comunque dei miei video perché vorrei diciamo rendere tutto un pochettino più clean non lo so voglio proprio cambiare mood del mio canale e di conseguenza da oggi lo faremo insieme inizierò a postare molti molti video sulla magari mia routine dei capelli routine della skin care video un pochettino rilassanti smr mentre studiamo ma poi vedrete tutto successivamente voglio cambiare la mia postazione e la mia idea è soprattutto di mettere quella scrivania un pochettino più avanti in modo tale che quella parete è proprio sarà proprio il mio sfondo di ogni video e raga secondo me il mio canale si svolterà comunque da ora in poi sicuramente mi impegnerò molto di più e cambierò proprio format di tutto come vi ho detto ma poi lo vedrete prossimamente con i vari video che ci saranno ora raga io ovviamente metterò una musichetta di sottofondo rilassante inizieremo a mettere tutta la stanza messa posto insieme voi comunque intanto che guardate questo video potete tranquillamente fare quello che volete studiare tanto comunque sarà un video rilassante mi starete totalmente nel chillon Grazie a tutti. Raga mi levo i capelli perché non ce lo faccio più, sto spostando 4.000 cose. Allora raga come vedete ho creato tutta la postazione. Ora visto che qua ho un porta gioielli va letteralmente messo tutto a posto perché è tutto un casino, però è super bello questo porta gioielli, oltretutto me l'aveva regalato mi sembra mia mamma perché era suo e me l'ha dato a me. E niente quindi ora mettiamo tutte le cose a posto con oltretutto anche le cose che poi voglio buttare perché ad esempio ci sono cose che sono tutte arrugginite e le voglio assolutamente buttare tipo questo qua tutto rotto arrugginito non mi piace più. Grazie. 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 Ragazzi questa qui è la postazione tutta 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 finita. A me piace tantissimo ora vi spiego un attimino com'è che l'ho organizzata qua ci sono io e allora raga qui abbiamo la scatola che è la scatola dei ricordi che poi sicuramente vi farò vedere in un video e qua abbiamo tutto la mia skin care a tema cocco che poi ovviamente vi farò anche di questo qua un video. Gli scalini che portano a letto ovviamente pieno di pupazzi mentre qua c'è il mio letto normale poi abbiamo qui la zona diciamo relax e leggerò un libro mi rilasserò e boh mi piace tantissimo davanti ovviamente alla finestra che sia giorno che sia notte a me piace avere la finestra accanto alla zona relax. Qui abbiamo il semplicissimo armadio e qui l'altro mio armadio che sono tutti due dei miei perché mia sorella ora non c'è lì sopra anche se non è proprio in bella vista la cyclette che appunto come avete visto l'ho piegata e l'ho messa la sopra apposta perché almeno non dà fastidio. Questa qua poi è la mia zona preferita ed è la zona in cui farò i video ho messo le lucine che ora vi accendo perfetto e niente quindi queste lucine mi piacciono tantissimo oltretutto ora le vedete così perché comunque non sono troppo lunghe come filo ma poi nella postazione verranno benissimo perché ovviamente inquadrerò solo il pezzo delle lucine. Poi qui abbiamo l'alberello carino secondo me super estetiche che ci stava perché almeno è minima la scrivania appunto dove starò in ogni mio video però un alberello così a me piaceva onestamente. Qua abbiamo la mia solita tazza di acqua che probabilmente vedrete in ogni video perché raga io bevo un botto di acqua poi questa qua mi piace tantissimo con scritto coffee anche se in realtà il coffee non lo berrò. Qui appunto abbiamo tutti 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 i disegni sistemati per bene li ho un pochettino rimessi a posto in modo tale che venisse bene questa parte e ragazzi ovviamente il video si conclude nella mia nuova postazione che vedrete letteralmente in ogni video. Volevo dare effettivamente una conclusione a questo video ossia che raga io vi prometto che da oggi in poi il mio format innanzitutto cambierà ma cambierà in meglio fidatevi di me e inoltre appunto come vedete è cambiata la mia postazione e cambierà anche l'edit dei video e migliorerà tutto. Quindi mi raccomando rimanete aggiornati e seguitemi su Instagram mi chiamo Giulia Rembo con www perché ho aperto il mio nuovo canale quindi mi raccomando andate a seguirmi là. E lì ovviamente poi prenderò le varie domande che mi farete nel box domande che metterò ogni tanto nelle storie e le utilizzerò per i miei video prossimi poi vedrete comunque. E stessa cosa su Italk mi chiamo nello stesso modo dove inizierò a postare anche i Get Ready With Me e... sì stavo dicendo and in inglese. E niente raga quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non fare nessuna mia notifica e niente vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!